Ognuno di noi ha bisogno di una persona di sesso opposto oppure del suo sesso, se l'attrazione è omosessuale, che lo aiuti ad amplificare il suo destino. Come si fa a sapere se è la persona giusta? Quando ti accorgi che mentre stai con lui o con lei, tu incominci a scoprire che le cose vengono più facili, che gli occhi, quando si dice ma che occhi hai, non saranno mica occhi dei innamorati, che gli occhi trasmettono una luce, come se ci fosse una secrezione luminosa negli occhi. Da molti mesi, nelle vostre mail, c'è la richiesta di parlare delle relazioni, delle relazioni affettive. E ora, io e tutti i colleghi di Rizza, abbiamo raccolto la vostra richiesta, abbiamo fatto la scelta di parlare delle relazioni. molti di voi chiedono, ma come sono le relazioni felici? No, come si superano e si affrontano i momenti difficili nella coppia? E vorrei sorprendervi, ma io e lui, o io e lei, siamo una coppia? Oppure siamo due individui, cioè due esseri indivisibili, che si stanno incontrando e che in quell'incontro stanno unendo un'energetica che solo la coppia può dare, sia omosessuale che eterosessuale. solo in coppia possiamo incontrare un'energetica trasformatrice? Da qui alla parola anima gemella, di cui parlo in questo numero di Rizza, il passo è breve. Gli ebrei chiamano bashert, l'anima gemella, ma la parola anima gemella di fatto la migliore traduzione è destino. Insomma, ognuno di noi ha bisogno di una persona di sesso opposto oppure del suo sesso, se l'attrazione è omosessuale, che lo aiuti ad amplificare il suo destino. Io quando i pazienti vengono da me a parlarmi dei problemi sentimentari, chiedo sempre questo. Ma fa, sa dottore mi dice Michela, io adesso sono innamorata, ma ho tutta la mente piena di tormenti, di come andrà a finire, se funzionerà, se è la persona giusta. Come si fa a sapere se è la persona giusta all'inizio della vicenda? Quando ti accorgi che mentre stai con lui o con lei, tu incominci a scoprire che le cose vengono più facili, che il tuo lavoro migliora, che gli occhi, quando si dice ma che occhi hai, non saranno mica occhi dei innamorati, che gli occhi trasmettono una luce, come se ci fosse una secrezione luminosa negli occhi. Voi direte i tormenti? Ecco, questo numero di rizze è dedicato a come affrontare i tormenti. sapendo che qualsiasi coppia, di qualsiasi coppia tu faccia parte, l'evento sei tu. Cosa scopro nello stare con lui o con lei? Cosa scopro? Qual è il sentimento in primo piano che compare? Ma effettivamente sento che lo stare con lui anche da tanti anni mi fa comunque sentire tenerezza. oppure in primo piano la rabbia, oppure c'è voglia di scappare, oppure c'è il lamento di molti di noi che dicono ho sbagliato la persona sbagliata, ma il tuo benessere dipende dall'altro? O l'altro è come dovrebbe essere, qualcosa che chiama la tua voce interna a realizzare il suo, il tuo percorso. Cosa puoi chiedere a un compagno di viaggio? Non che reggiti il mantra che vuoi sentire dell'uomo o della donna perfetta. Non che reggiti il mantra dell'uomo ideale, ma che accenda in te delle finestre sul senso, su delle capacità, dei talenti, delle cose che fai da sola ma che sai che lui o lei in qualche modo dentro di te è al tuo fianco. Bashar, un gemello dentro di te erotico che ti fa sentire che c'è un compagno di viaggio. Voi direte, ma il compagno di viaggio è dentro di me? Sì, ognuno di noi ha un compagno di viaggio. Ma perché questo compagno scende in campo? Ci vuole l'eros, il desiderio. E Marta mi scrive, e quando mi innamoro di un altro? E se mi innamoro di un altro? Mi sento sbagliata quando ti innamoro di un altro? O quando ti innamoro di un'altra? Quando desideri un'altra persona? Dentro di te, il tuo compagno di viaggio? Sta cercando un altro modo di essere. Sta cercando un lato di te che non stai vedendo. Sta cercando di renderti completa mentre nella tua relazione non sei completa. Non sta decidendo di farti scegliere. Sta semplicemente presentandoti un'energia che ti chiama a ricordarti che in te c'è un doppio. Ti stai innamorando di lui? No, ti stai innamorando di te attraverso di lui. La partita cambia radicalmente. L'anima gemella è prima di tutto l'incontro con quella entità misteriosa che abita dentro di te, che c'era fin dalla nascita. Tanto è vero che i bambini, i bambini che sono molto più vicini all'anima di noi, quando sono piccoli parlano sempre di un amico sconosciuto. Parlano con un amico sconosciuto. I bambini sanno che noi siamo doppi. E nei mille personaggi che recitano quando si attaccano alle fiame, loro partecipano come se dentro di loro ci fosse una moltitudine. E così c'è una moltitudine dentro di te. E quando pensi di dover decidere fra tuo marito o l'altro, fra tua moglie e l'altra, fra il tuo compagno e l'altro o l'altra, quando sei per prendere una decisione come se fosse definitiva, ah, se vivessi con lui la vita sarebbe meglio, o se vivessi con lei sì che finalmente sarei felice, stai commettendo un grave errore. Perché stai dimenticandoti che quello che ti chiama all'eros, al desiderio e così via è l'altro che c'è in te. Questo non significa che un rapporto possa interrompere se cominciare un altro, però significa che lo sguardo deve posarsi sull'interno. Il mio Bachelet, la mia anima gemella, che in questo momento è incarnata da lui, è contenta di me, mi metto un bel vestito per vederlo o per vederla, compro un oggetto che mi piace da quando sono con lui o con lei. Mi metto a fare cose creative che prima non facevi, non perché prima non facevo da quando sono con lui o con lei. Pensi, mi dice una signora, da quando lo frequento mi sono rimessa a scrivere poesie come mi capitava da ragazza. Ma le poesie le sapevi scrivere. Qualcuno dall'esterno ti ha chiamato per farti fare ciò che ti appartiene e che ti sei dimenticato. Ecco, le relazioni felici sono quelle che centrano il fatto che l'altro con cui vivi, l'altra con cui stai, sono semplicemente il richiamo delle tue voci interne. Perché tu ti ricongiunga con te stesso. Ecco, allora, quando c'è un problema di coppia, quando c'è una relazione che non funziona, ricordati che spesso in lei vedi le cose che non ti piacciono di te e vedi le cose che non accetti di te. In lui vedi qualcosa che tu hai rimosso dentro di te. Perché quando noi ci siamo impossessati della nostra, del nostro doppio, allora l'altro si è rimasto così come a me non serve più. Perché non apporta energie allo sviluppo della nostra identità più profonda. Buona lettura.